L'Iran non parteciperà alla conferenza di pace Ginevra 2 sulla crisi siriana, che verrà inaugurata domani 22 gennaio a Montreux. A ritirare l'invito è lo stesso segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon, che fino a ieri aveva invece tentato il coinvolgimento di Teheran. Condizione per prendere parte alla conferenza era l'accettazione del comunicato di Ginevra 2012, che prevede la creazione di un governo di transizione senza Bashar al-Assad, che l'Iran si è invece rifiutato di sottoscrivere, non accettando alcuna condizione preventiva. Eravamo pronti a partecipare alla conferenza di Ginevra 2 e a giocare il nostro ruolo, ma non accettiamo condizioni, ha dichiarato la diplomazia iraniana riferendosi all'accettazione del comunicato di Ginevra. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha definito uno sbaglio, ma non una catastrofe la mancata partecipazione dell'Iran. Grande soddisfazione invece da parte della coalizione dell'opposizione siriana in esilio per la decisione dell'ONU. L'opposizione, che rappresenta tutti i gruppi non-jihadisti, parteciperà alla conferenza senza una delle sue componenti, il Consiglio nazionale siriano, che si è rifiutato di negoziare finché il regime di Assad resterà in piedi. Anche gli Stati Uniti hanno accolto con favore il ritiro dell'invito, auspicando che lo scopo della riunione sarà quello di porre fine alle sofferenze del popolo siriano.